Da domenica 2 dicembre, in prima serata tv su canale 5, i telespettatori potranno vedere svolazzare i camici bianchi dei dottori di New Amsterdam. Nel palinsesto della rete Ammiraglia Mediaset, questo medical drama di produzione statunitense va a prendere il posto dell'isola di Pietro, video. Per quanto concerne il contenuto, questa serialità può essere paragonata ad una sorta di ER Medici in prima linea aggiornata ai tempi correnti. Tra i protagonisti del cast figurano gli attori Ryan Eggle de Janet Montgomery. La prima stagione di New Amsterdam in prima visione tv su canale 5 è un filone televisivo che, negli ultimi anni, ha sempre riscosso un grande successo è quello delle serie medicali. Senza scomodare lo storico Dr. Kilder, autentico antesignano del genere, negli ultimi anni le serialità girate in ambito ospedaliero hanno sempre avuto molto successo. Dalla già citata ER al Dr. House, da Grey's Anatomy ad A Good Doctor, le programmazioni girate negli ambienti ospedalieri hanno sempre riscosso il favore dei telespettatori perché mescolano emozioni, umanità, sorprese e, soprattutto, offrono una grande possibilità di immedesimazione nei personaggi.Dalla prima serata di domenica 2 dicembre a sbarcare sui teleschermi italiani, in prima visione tv su canale 5, video, e in streaming su Mediaset Play, sarà la prima stagione di New Amsterdam. In origine il medical drama doveva essere trasmesso da Fox Live, ma a mandare in onda i 22 episodi che lo compongono sarà il canale principale di Mediaset.Sinossi della serie New Amsterdam è ideata da David Schulner e i casi raccontati nelle puntate sono tratti dal romanzo di Eric Mneimer, direttore responsabile di uno dei principali nosocomi ospedalieri degli Stati Uniti, quale il Belvio Hospital.La serie inizia con il Dr. Max Goodwin, interpretato dall'attore Ryan Eppold, che in seguito alla nomina di direttore sanitario di un vecchio ospedale pubblico statunitense vuole procedere a rinnovarlo. La struttura medica, infatti, per cause burocratiche, versa in uno stato di semiabbandono.Il principale obiettivo di Goodwin è quello di assicurare a tutti i pazienti una copertura sanitaria adeguata e in grado di sopperire ad ogni eventualità medica, dalla semplice ferita all'emergenza più grave. Nel raggiungere questo scopo il dottore è coadiuvato da uno staff multietnico molto preparato e pronto a fronteggiare qualsiasi circostanza.Il cast di New Amsterdam amatori, personaggi e protagonisti oltre al Dr. Max Goodwin, tra i protagonisti del cast di New Amsterdam figurano la dottoressa Laura Bloom, interpretata dall'attrice Janet Montgomery e la di Puntos a Ellen Sharp, il cui camice è indossato da Frima Ageman.Tra gli altri personaggi dello staff medico ci sono poi Floyd Reynolds, interpretato dall'attore Joko Sims, Iggy Froome, i cui panni sono vestiti da Tyler Labine, e Vijay Kapoor, ovvero l'attore e regista indiano Anupam Kher. In ogni episodio figurano poi altri personaggi minori. in ogni episodio figurano più grande.